ciao cari amici bentornati a un tè con elena allora oggi vi parlo in realtà di un cantautore ma con una ricaduta libresca allora credo che voi sappiate poi non so i giovani ma per chi ha la mia età cioè chi è insomma diciamo 50 60 anche oltre uno dei pilastri musicali delle nostre generazioni cantautore voi sapete però che lui il top ma anche altri cantautore degli anni 70 in realtà erano dei grandi poeti e io vi sto parlando di uno fra i massimi poeti e cantautori italiani cioè francesco cucini e ve ne parlo perché in realtà il 18 novembre quindi l'altro ieri quant'era è uscito il diciassettesimo album in studio di francesco cucini a dieci anni dall'ultimo album in studio questo nuovo album si chiama canzoni da intorto io non ho ancora preso ma sicuramente lo prenderò perché avendo una macchina abbastanza vecchia la mia autoradio non so si chiamano così al lettore cd e quindi me lo ascolterò in macchina andando e tornando dal lavoro è uscito appunto questo album due giorni fa è in realtà un disco di cover un disco di cover le più varie perché adesso ripeto non ho ancora comprato però vedo che ci sono canzoni della tradizione per esempio green sleeves bellissima ballata credo inglese del 1400 giù di lì 1500 e poi ci sono delle canzoni che tutti abbiamo amato per esempio quella bellissima di streller ma mi che canta di questo messo in prigione 40 di a san vitura ciapai bot mi sono dei quei che parlano e tra l'altro io tutte mi dicono che faccio tutti questi incisi però ahimè il mio stile mentale purtroppo un po' fatto logico allora tra l'altro c'è una presenza di un cantautore attuale che io amo moltissimo e che andrò a sentire al 9 mi sembra di dicembre al teatro san rocco di seregno che è davide van desfros al secolo davide bernasconi il cui ultimo cd mother folk che è meraviglioso sono dei testi poetici in musica bellissimi la canzone una volta c'era il lato ano la canzone più importante è o lord vardagio con zucchero che è una bellissima preghiera e c'è la partecipazione appunto di van desfros in due canzoni in una canzone nei cori ed è aspetta ve lo dico non mi ricordo più come si chiama zurigo qualcosa del genere e un appunto mamì per cui allora tornando a cucini quindi cd di cucini uscito in questi giorni poi quando lo compro l'ascolto ve ne parlerò di cucini non vi devo dire nulla perché ovviamente tutti lo conosciamo e lo ammiriamo ma cucini che è un grande cantautore un grande poeta perché i testi di cucini sono delle poesie e dei racconti è anche scrittore e oggi vi ho portato un libro che ho ripescato che avevo a casa non so forse l'ho preso in un mercatino sì l'ho preso in un mercatino perché cucini che ha scritto diversi libri ha scritto anche con loriano macchiavelli che è un bravissimo scrittore tra l'altro autore dei gialli che hanno vi che hanno avuto per protagonista antonio sarti che tra l'altro se riuscite a recuperarlo non so se nelle teiche rai ok sono state portate per la rai sullo schermo con un grandissimo interprete bolognese ahimè appena morto che è gianni cavina uno degli attori preferiti per esempio da fu piavati però con loriano macchiavelli cucini ha creato hanno creato un altro personaggio che è il maresciallo ex maresciallo dei carabinieri santo vito questi romanzi si svolgono tra bologna l'appennino emiliano appennino modenese questo che vi ho portato credo il secondo credo sia il secondo della serie del maresciallo santo vito e praticamente si intitola vedete questo sangue che impasta la terra e racconta si svolge nel 1970 quindi sono gli anni immediatamente successivi al famoso 68 era parte dall'omicidio di un giovane in un paesino dell'appennino tosco emiliano e poi si dipana la vicenda tra appunto l'appennino bologna nel mondo delle lotte studentesche che poi diventeranno lotta armata diventerà tutto l'ambiente anche del neofascismo i campi paramilitari è molto bello la scrittura di macchiavelli con cucini è assolutamente scorrevole ci si trova anche la tradizione noi ricordi delle lotte partigiane i ricordi storici le vecchie tradizioni dell'appennino cucini ripeto nulla da due da dire ma se vi capita di recuperare questi romanzi e anche quelli dell'altro di solo di loriano macchiavelli su sarti antonio ne ha scritti diversi recuperateli e compratele soprattutto leggeteli allora io sto cercando di abbrevare i miei video perché dicono che sono un po prolissa per cui devo diventare più concisa e stringata ahimè non ho questo dono però vi lascio su cd di cucini canzoni da intorto poi lo comprerò lo ascolterò magari ne parleremo nello specifico francesco cucini loriano macchiavelli i romanzi della serie di del maresciallo santo vito e comunque i romanzi invece da solo di loriano macchiavelli su sarti antonio detto questo vi saluto vi auguro un buon non buon pranzo se vi è piaciuto il video mettete like e se vi interessa se mi incuriosisce quello di cui parlo iscrivetevi al mio canale youtube un tè con elena su youtube ciao cari amici a presto ciao ciao